Il bello è quando lo spettatore esce e dice un bellissimo spettacolo, ma che non dica salve dei costumi. Il costumista deve essere al servizio delle idee del regista, chiaramente portando anche le sue. E' il risultato che è fatto dall'equip, l'attore segue le indicazioni del regista, così anche il costumista.